autobus storici Cesaro Basso nel 56 è istituito l'autobus su gomma piazza Gramsci Gorki-Sarca all'Unigiana nel 57 chiude la tramvia storica nel 60 c'è il prolungamento via 25 aprile nel 65 piazza Costa via Refuglio Testi nel 66 si prolunga fino a Campo dei Fiori poi a Borgomisto e a Sant'Eusebi altre invece giustite da Sasse e Saab la Saab e Monza Cinisello che vediamo i biglietti la linea B sostituita nel 49 Cinisello sesto la linea D nel 52 sesto Cinisello novato la linea C sesto Cinisello poi fino a Muggio si arrivava poi in centrale a Ponte Seveso con la Milano Cinisello vediamo il capolinea storico in piazza Costa del bus doppio di Ponte Seveso con la Milano Cinisello